Il design del treno è sempre così importante quando va a 400 km l'ora, ogni mini-millimetro conta tantissimo per l'aerodinamica, però la forma basica dell'aerodinamica è sempre brutto, generico, normale, allora il nostro contributo è trasformare questa forma di aerodinamica in qualcosa di spettacolare. Il design italiano è questo, proporzione, differenza, migrimo fa cambiare un oggetto banale e un oggetto spettacolare. Quindi la parte più ovvia, la parte esterna del treno che fa vedere questa aggressività, ma questa eleganza al stesso tempo. È molto importante dare una qualità di vita a bordo a questi treni che comincia a occupare direttamente con gli aeroplani oggi.